Non bastano i magistrati, non bastano le forze dell'ordine che fanno un lavoro straordinario sotto il profilo della repressione, ma occorre anche e soprattutto un controllo sociale diffuso. Cioè occorre che noi cittadini, tutti insieme, e i media, i giornalisti, vadano a guardare l'amministrazione. Che cosa fa? Vadano a consultare i siti dell'amministrazione, perché oggi l'amministrazione è diventata completamente trasparente, è davvero una casa di vetro. La pubblica amministrazione oggi deve pubblicare tutti i documenti, tutti i dati sull'attività che svolge. I cittadini sono chiamati a controllare l'attività, a controllare, a verificare il tipo di attività, a verificare confrontando i dati della propria amministrazione con quella degli altri. E se vedono qualcosa che non va, devono denunciarlo. Ecco, è questo che chiede l'organizzazione internazionale, un coinvolgimento di tutti noi nella lotta alla corruzione.